Questa è una storia senza tempo. Come ogni anno, Rupert trascorrerà il Natale con la perfida nonna Porfiglia. Povero Rupert dovrà affrontare una fidanzata a piccicoli, fumetti pericolosi e un'invasione di extraterrestri. Ce la farà Rupert a liberare la casa dall'invasione aliena? Vi aspetto tutti al cinema! Ci vediamo ragazzi! Il magico Natale di Rupert, dal 3 dicembre al cinema. Grazie a tutti!